No, c'è il camera, c'è il verso, non capire chi me lo dà, dice bene, c'è uno moscerino oggi, va bene, ok. Il momento di Desiree! C'è uno dei scivoli, che sono questi versi? Ti scivola, salta a te. Desiree, cosa ci manchi stasera? Lisse. Lisse di mio sé, presentami però, perché noi ti si conosce, però magari loro, non tutti, mi ha dato un buon latte. Ok, allora vi lascio a Desiree con la sua Listen. Grazie. 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 non è l'occhio